E' finita ragazzi in questo momento la partita tra Fiorentina e Sampdoria, la Viola che vince 1-0 e quindi accede di diritto ai quarti di finale di Coppa Italia, Sampdoria che invece viene eliminata. Una Sampdoria che continua ragazzi ad avere problemi seguiti davanti perché questa Sampdoria non segna, ora a parte quella vittoria col Sassuolo di sporadica non ci siamo, non ci siamo proprio una partita dove non sarà un post partita molto lungo perché alla fine non ci sono stati tutte queste grandissime occasioni. Sicuramente la vittoria della Fiorentina è meritata perché nel nulla quasi della Sampdoria la Fiorentina qualcosina in più ha creato ma per il resto è una partita abbastanza blanda, equilibrata nella prima mezz'oretta, 40 minuti, quasi primo tempo, quasi. Perché la Samp all'inizio, cioè non proprio all'inizio, però nel primo tempo ha avuto l'occasione se vogliamo quasi più grande dopo il gol di Barak, quella traversa lì di Lincoln dove c'è un errore chiaro di Gollini ragazzi che sia nel primo tempo appunto su quella traversa smanaccia male e poi il Lincoln prende il tempo su Barak, per quanto comunque Lincoln non è chissà quanti centimetri ma è la posizione meglio di Barak che più alto. E poi alla parte alta della traversa sia nel secondo tempo dove Gollini praticamente smanaccia ancora malissimo e manda la palla in calcio d'angolo, uscite semplici dove lui le sbaglia. A parte comunque quella occasione lì della Sampdoria ragazzi per il resto niente 90 minuti, solo quella traversa lì è stata un'occasione pericolosa e forse una spawn di Ambra Bat nel secondo tempo quindi quasi autoerrore di Ambra Bat stava per fare un po' una mezza cavolata. Per il resto non ho visto questa Sampdoria pericolosa della Fiorentina, ho visto qualcosina in più, non chissà cosa però qualcosina in più della Fiorentina diciamo che si è vista. Se vogliamo c'è stato un tiro sporcato di qua a me dove la palla ci fuori di tanto, questo cross di Terzic se non sbaglio messo dentro dove praticamente la difesa della Samp di testa spazza male, la palla con un ribalzo rimane lì e Barak comunque con questa palla che gli palleggia davanti fa un tiro al volo, lo fa bene, potente, preciso e lì non ci può arrivare il portiere del Doria che se non sbaglio era Contini. Angolata bene questa palla, Barak che si dimostra comunque un giocatore importante per le coppe perché comunque segna in Coppa Italia, qualche golletto l'ha fatto anche in Conference League, quindi può essere quel valore aggiunto in più che ogni tanto lo butti dentro e ti può far comodo. Viola che comunque poi trova anche il secondo gol con Jovic, un gol però che poi viene annullato perché Jovic parte in fuorigioco, anche se non lo capita qua a dinamica lì perché praticamente questo passocio qua per Jovic che è in fuorigioco viene sporcato innanzitutto da un giocatore del Doria. E poi viene ancora risporcato ancora più clamorosamente da Murillo che prova a fare l'intervento, la palla, il crambola sul piede, si impenna, va a Jovic che segna, bellissimo gol tra l'altro in pallonetto con Contini in uscita. Il discorso è, ma scusate, non diventa un'altra azione quella, cioè invece no, l'habito ha comunque un quarto fuorigioco, io ancora questa cosa qua non l'ho capita perché molte volte quando c'è un rimpallo così netto in fuorigioco da attivo diventa passivo, è come se fosse un'altra azione di gioco, invece in questo caso non è stata data e questa cosa qui ancora non l'ho capito, forse è che comunque il gol di Jovic è stato annullato, Fiorentina che comunque continua ad attaccare con un cross di Duncan per qua me che gira di terza ma non trova la porta, stessa Fiorentina che comunque ancora se non sbaglio con terzi ci fa un cross al centro, ancora al Doria spazza male, l'impallo, la palla sporca rimane lì e Jovic ha due passi, praticamente prova a chiudere il suo primo palo con Contini in uscita ma non trova praticamente lo specchio della porta in questo caso e lì poteva essere un'occasione abbastanza agghiotta per la Fiorentina. Nel secondo tempo c'è ancora meno da commentare, secondo me perché la Fiorentina parte benissimo con quell'azione Terzic per Barak che dà il filtrante a qua me, qua me tira e lì il potere dell'Orea fa una buona parata, non ho capito se era un tiro quello di qua me oppure un cross per Jovic al centro, fatto sa che comunque il potere dell'Orea lì si fa trovare pronto e se vogliamo nel finale è una girata di Nico Gonzalez di testa dove praticamente non trova però la porta completamente. Questo è successo comunque in questi 90 minuti, poco e nulla ragazzi ma queste occasioni qua, questi 90 minuti hanno fatto sì che comunque la Fiorentina acceda appunto ai quarti di finale. Comunque tutto sommato meritato questo passaggio del turno, per quanto non abbiamo visto chissà cosa, in campo alla fine è meritato. Murillo che nel finale si fa anche spellere per doppio giallo, doppia munizione più che sacrosante giusta, e niente da fare ragazzi, l'Orea è eliminato. Adesso poi noi ci vediamo col post partita di Roma Genua dopo, se è stato questo video vi piaciuto lasciate un bel like, mi raccomando, commentate qui sotto i commenti, fate sapere un po' voi cosa ne pensate appunto di questa partita quarta a Fiorentina e l'Orea di dire un po' la vostra e soprattutto ragazzi anche se vi fa piacere iscrivetevi al canale che è importantissimo, non costa nulla, io ne ho tanto, basta che fate clic su iscriviti e se siete iscriviti, se siete costi nulla, vi supporre il casino, se lo fate vi ringrazio di cuore, basta solo un click e il vostro supporto è fondamentale, condividetevi il video con i vostri amici e iscrivetevi anche loro e attivate anche la campionata di notifiche, così non vedete i prossimi video che usciranno appunto dopo il post partita di Roma Genua. Passate che sono i link in descrizione al bar di Fosy Channel, che comunque questa sera vanno in live, io non ci sono ma loro vanno in live, quindi passate sotto i link in descrizione e anche al link al mio piatto Twitter. Qui da me che è tutto, bella! Grazie a tutti!